buongiorno amici in quest'ottobre miracolante c'è già un fogliage bellissimo là c'è un canterino cosa c'è qua sotto? mamma mia il regalo della natura i colori dell'appennino che qua in diretta fa paura cos'è voletus autunnalis e che bello che è colore c'è anche il lumacotto guarda ciao claude eccolo è strano come trova c'è n'è giù eppalala trick il bastone e il porcino e questo è fresco boh andrà a capire il bosco questo qua invece qua c'è un fungo degno di essere chiamato fungo con la F maiuscola sotto da me e lì ho trovato sette funghi stupendi ma anche questo non scherza probabilmente registro sull'ultimo fungo di giornata in mezzo a questi bellissimi colori pieno autunno andiamo a raccogliere il nostro amico ottimo ragazzi alla prossima ciao 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 ciao